e rifacciamo un'altra partita e vediamo come andrà a finire le ultime due sono andate malissimo eh sì 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 dai andate molto male sono andate vabbè vediamo di recuperare adesso ma chi è che vediamo di recuperare un po' io segnalo il giocatore così come segnala il giocatore poverino ma partiamo o cosa facciamo sette secondi rendi mille yard abbandonato goss e lì titubante long zone ranger ci ha fatto proprio il culo ma tanto siamo al castello di pitch se lì p c'è vero dove la prossima volta gioco con con la versione switch di rocket league ma sai quante skin c'ho lì sopra davvero una valanga perché ho comprato il gioco e dentro c'è di tutte di più ho pagato tipo 5 euro sono tutte le skin di mario luigi anche io mario e mario c'hai sulla switch ma però è scaricato ma quando comprandolo comprando proprio la cartuccia ti davano un botto di roba ma perché era già diventato free to play lo vendevano tipo a niente e avevano rilasciato un sacco di screen di screen di di baffanculo avete capito di skin grande rocco grande che gol ho aspettato rimbalzo che gol guardano we speak chinese ragazzi noi spacchiamo cinesi ma ci facciamo anche spaccare dai cinesi no che deja vu a no deja vu mamma mia che nome siamo fatti potter proprio benissimo ma qua adesso sto in porta va che gara andate pure vai e come ho fatto niente sono esploso ti hanno caricato di brutto non c'è certo come no bella rotto ma grande ruotaggio praticamente matex se tu hai il turbo e vai adosso una macchina la sua la demolisci vai 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 mamma mia境 e 6 mamma mia mamma mia mamma mia vai matti e vabbè e no di prepotenza il cuore va che piedabanana e no no doppio rimbalzo ci ho provato no carcerola liscio bella bella e no vai vai scusa matex volta no no non fa niente arrivo di prepotenza grande 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 mia di prepotenza provo 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 guarda il parata guarda il parata qua dai e dai e grande grande bello 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 grande dalla porta nostra assegnato guardalo mamma ma raga roba dritto per dritto ha visto come ci si è infilato non c'era nessuno la dipenda porca miseria nessuno e noi dovevo volete andare non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta ero lì e ho schiacciato da una parte invece che dall'altra avrei potuto magari toglierla e non ce l'ho fatta che sfiga o sono toccata erico ma sto borderlands 4 non vedrò ragazzi pop ovvio sarola io non ho manco giocato il 3 figurati 3 molto bello devo ancora finirlo io ce l'ho proprio appena iniziato e basta e c'ho una deluxe super succhia edition succhia edition eh sì quella lì poi lì che aveva un sacco guardalo mamma mia mamma mia guarda guardalo guardalo grandissimi grandissimi mi ha dato l'assist mi ha dato l'assist guarda guarda stacker mi sembri gg d'agostino con sto cappello si è stato gg d'agostino è vero è lui eh sì è lui è lui e la sbattuta di traverso no 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 bella no no cazzarola sto rimbalzo di merda tutte le volte mi foto con sto rimbalzo e certo palleggia anche a sera il cristiano ronaldo è arrivato bello 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 mamma mia me l'ho parata sei in mezzo no non è in mezzo ma quasi dai che sto tornando in mezzo ragazzi mi sto schiantando ma scusa nessunque ma sto capendo più un cazzo neanch'io ma sto capendo più un cazzo ma ci prova a fare una ceppa però c'è ed eccolo 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 guardate guardatelo guardatelo guardate play guarda stacker bellissimo automatico dai eh grazie grazie per la spinta 30 secondi ok noi prendiamo prendiamo alta ok perfetto daje 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 grandi dai 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 grandi cosa volete fare ma cosa volete fare via che io lo so tuttavia ma se no ah dopo a momenti entrava pure sì e vincono ottimo ottimo perché l'abbiamo fatta vedere anche stavolta che acchio oh yes io voglio farla verticale come si fa non ci abbiamo fatto eh vabbè faccio